Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo in un video vlog Mi vedete distrutto? Perché questa è la quinta volta che registro Pensate, e sarà l'ultima Allora, no l'ultima volta che non faccio video L'ultima che registro Perché se viene male questo, lo posto Allora, oggi è il tour della stanza Natalizia Ecco l'alberello qua Ecco qua l'alberello Mi piace, è un ramo dell'alberello Vabbè, basta cantare È un ramo dell'albero di Natale che si è rotto e l'ha addobbato tutto Poi passiamo al pezzo forte È fortissimo questo pezzo Guardate, speggo le luci, buio totale Luci! Strabosferica Ok, accendiamo le luci Perfetto Spero che questo video vi sia piaciuto Un saluto Un saluto da me E buon Natale a tutti i miei iscritti Buon Natale Mettete un... Arriviamo a tre like Tre like Se volete mettere uno in più potete farlo Me ne bastano tre Me ne bastano tre Tre like vanno bene Ho visto che ho perso un iscritto E... Sì, forse c'era ragione Dove vi chiede di Gianmarco Zaiato Tutte quelle parolacce Forse ha fatto bene a disiscriversi Ok Spero che il video vi sia piaciuto Un felice anno nuovo E buon Natale Ciao 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 Ciao!